Salve, continuiamo a commentare il discorso di Gesù nella sinagoga di Cafarnao e il capitolo sesto del Vangelo di Giovanni e ci fermiamo oggi a considerare i versetti dal 44 al 51. Sono versetti importanti perché si dedica allo studio della teologia, perché in queste breve righe l'Evangelista ci racconta qualcosa di Gesù molto molto importante. Disse Gesù alla folla, nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Gesù spiega alla gente che nessuno può capire le sue parole se prima il Padre non concede a quella persona la grazia necessaria per credere in Gesù. È molto bello considerare l'unità della Trinità nella nostra vita di preghiera. Se tu vuoi avvicinarti a Gesù, ebbene non puoi farlo se prima non ti attira il Padre. È curioso perché Gesù ci rivela il Padre. Senza Gesù noi non potremmo dire Padre nostro. È qualcosa di molto semplice e allo stesso tempo di molto molto profondo. Gesù ci ha rivelato il Padre e senza Gesù non possiamo andare al Padre. Ma allo stesso tempo senza il Padre non possiamo credere in Gesù. È parte di questo mistero della vita trinitaria che si manifesta nella nostra vita di orazione. E perciò è importante chiedergli al Padre, a Dio Padre, Signore voglio essere attirato da te, voglio amarti con tutto il mio cuore, perché so che se tu non mi attiri, se non sono vicino a te, allora non potrò credere nel tuo figlio. Soltanto chi è vicino a Dio Padre può avere una fede così forte da credere che Gesù sia Dio e da credere che se Gesù è Dio, allora è davvero capace di istituire quel miracolo di amore che è l'Eucaristia. L'Eucaristia è qualcosa di, come dire, di profondamente pazzo, di profondamente incredibile, ma che soltanto si può credere appunto quando uno ha un cuore innamorato. Mi ricordo molto come San José Maria, il fondatore dell'Opus Dei, per cercare di spiegare l'Eucaristia, faceva riferimento a quel atto, se tu vuoi dire, molto banale, molto tipico di un fidanzato che deve andare via e lascia alla sua ragazza una fotografia, perché lui non può rimanere, deve andare via e allora come non vuole andare via senza lasciare qualcosa a quella ragazza, gli lascia una fotografia e diceva lui, magari anche con una dedica molto colorita, molto molto bella, perché la ragazza si ricorda di lui. Così è l'amore umano, ma allo stesso tempo così è l'amore divino, perché Dio poteva, Gesù doveva andare via, però allo stesso tempo voleva rimanere con noi e ha voluto lasciare l'Eucaristia che non è soltanto un segno, è la vera presenza del Signore tra di noi, è il vero Emanuele, è Dio con noi, è Dio con noi, però per poter credere nell'Eucaristia noi abbiamo bisogno che il Padre ci doni la fede e perciò è importante ripetere con grande semplicità nella nostra preghiera, Signore aumentami la fede, aumentami la fede perché senza fede non posso credere nel tuo figlio e non dare la fede per scontata. Ogni giorno dobbiamo chiedere al Signore di aumentare la nostra fede, è una virtù teologale, non dipende tanto da te o da me, dipende da Dio che ce la deve donare. Allora chiediamoli questo dono di grazia in modo di poter avere una fede solida, forte, consistente nella presenza del suo figlio, nella presenza nel Santissimo Sacramento dell'Altare, perché se abbiamo una fede forte in Gesù sacramentato allora veramente non c'è nessun pericolo, non ci sarà nessun problema perché sappiamo che Gesù è sempre al nostro fianco e che è tanto tanto nostro che possiamo addirittura mangiarlo. Allora io ti invito a leggere di nuovo questo capitolo, questo lungo capitolo 6 del Vangelo di Giovanni e chiedergli al Signore di aumentare la fede, chiedergli di essere attirati dal Padre per credere in Gesù.